Ma tutti i protagonisti del video di questa canzone correvano dietro alle ragazze che purtroppo per loro gli hanno fatto da cornice Ma c'è stata un'altra famiglia che correva dietro La famiglia gay La famiglia gay Non c'è niente di omosizione No, 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 si chiama così Gli freddi di Marvin Gaye Esattamente, che col bastone sono andati a casa di Robin Ticchi e gli hanno detto Bene, com'è andato il disco? Bene, benissimo Ma in tutti i paesi, ma certo, sono persino stato a Radio DJ a promuovere Sì, sì Mi hanno fatto anche la canzone italiana di Natale Bene, bene Quanto avrei raggiato con questo? Ma guarda, adesso devo parlare col mio commercialista Ma secondo me 200 milioni di euro li ho portati a casa Ok, ne vogliamo 195 Questa, grosso modo, le cifre non sono quelle State ascoltando Radio DJ e state ascoltando il meglio della settimana DJ Chiaritalia dalle 10 e fino alle 13